Ciao ragazzi oggi vi spiegherò 5 motivi per cui secondo me Massimo Bossetti è innocente. Numero 1, non ci sono prove. La mancanza di prove schiaccianti rende l'accusa sul cosiddetto Bossetti irrilevante, oltre si è impossibile che sia stato Massimo Bossetti perché il giorno dell'omicidio si trovava ad una festa a casa di Silvio Berlusconi. Numero 2, il minatore è troppo forte. Può letteralmente essere posizionato ovunque e questo lo rende davvero OP. Inoltre costa solo 3 elisire e ha la stessa vita del cavaliere. La cosa più pazzurda è che puoi usarlo col barile goblin o gli spacca muro e distruggere la torre e fare easy win. Vi prego nerfate il minatore. Numero 3, Al Capone è il cantautore italiano più apprezzato negli Stati Uniti, subito dopo il poeta contemporaneo Rondo da Sosa. Numero 4, Pisnello. Numero 5, solo et pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi et lenti, et gli occhi porto per fuggire in tenti ove vestigio human l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi, dal manifesto accorgerde leggenti, perché negli atti d'allegrezza spenti di forsi legge com'io dentro avampi. Sicchio mi credo o mai che monti et piagge et fiumi et selve sappian di che tempra sia la mia vita, che celata altrui. Ma pur si aspre viennesi selvagge cercare non so che amor non venga sempre ragionando con meco, et io con lui.